La prima mostra dedicata al sistema dell'economia romana, alla finanza romana, una mostra che unisce non soltanto i numi, ma anche le rappresentazioni delle varie transazioni e delle professioni legate all'economia e alla finanza romana. La pecunia non olet, una delle fonti principali che vengono messe al centro di questa mostra solidaria come narrazione che aprono gli occhi su un tema della storia sociale e strutturale della società della Roma classica e imperiale, sono proprio gli epigrafi, epigrafi che uniscono il patrimonio materiale con quello testuale e proprio per questo spesso vengono negletti dalle mostre da un accanto oppure da chi studia la letteratura antica, non con scopi storici ma letterari. Qui abbiamo invece una contestualizzazione, una ricontestualizzazione e una scoperta di professionalità, di strumenti e di strutture economiche che sono importanti fino ai giorni di oggi. Quindi una mostra piena di novità scientifiche, ma anche di grande attualità per il nostro mondo contemporaneo. Grazie